Continua il piano di assunzioni dell'azienda sanitaria universitaria Giuliani Zontina per contrastare la pandemia di Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono state 400 le persone che sono state chiamate al servizio. Verranno assunti quindi altri 13 professionisti questa settimana, indirizzati nei vari centri, dipartimenti di prevenzione e strutture suddivise a Monfalcone, Gorizia e Trieste, come pneumologia, chirurgia generale, geriatria, malattie infettive. L'azienda sanitaria ha anche segnalato le modifiche contrattuali delle altre figure professionali di sei mesi oltre la data di scadenza del loro contratto. Il tutto al fine di garantire le forze necessarie in ambito sanitario per riuscire a coprire tutte le necessità. Procede ogni settimana dunque il piano assunzioni della SUGI, sempre per contrastare l'emergenza pandemica. Inoltre sono stati reclutati altri 36 operatori sociosanitari, un dirigente medico da assegnare ai reparti malattie infettive e quattro dirigenti medici da assegnare al pronto soccorso e alla medicina di urgenza.